San Rufo, giorno 10 agosto alle ore 18 presso il centro di aggregazione sociale sito in via Roma, accoglie la prima mostra fotografica delle opere dell'artista Leandro Marmo, figlio di un emigrante sarrufese in Argentina. Molto giovane, a Leandro incontra padre Bergoglio e inizia la sua esperienza di artista degli scarti e le sue opere lo hanno portato fino ai musei vaticani, cosicché è potuto tornare nei luoghi dove il padre ha vissuto la sua giovinezza. Accolto familiarmente da tutti i cittadini sarrufesi, l'artista ha voluto manifestare il suo legame al paese da tutti gli emigranti realizzando un'opera d'arte che ricorderà in una piazza di San Rufo tutti i lavoratori della terra e tutti coloro che hanno perso la vita lavorandola. La mostra fotografica rappresenta l'occasione per far conoscere l'artista ma soprattutto il suo concetto di arte degli scarti, lanciando un messaggio di speranza con la sua storia di vita da emarginato ad artista, grazie anche alla fiducia ricevuta da un sacerdote che poi sarebbe diventato il grande Papa Francesco.